scusatemi se sono senza trucco e con capelli un po così sporchi ma non li lavo da due giorni e mezzo oggi sarebbe il terzo perché mi devo fare il colore vi faccio vedere che marca di colore io uso che è veramente un qualcosa di straordinario va bene oggi sono già disperata al pensiero che mi devo dare il colore da sola ho capelli fino sotto il culo come farò non lo so comunque la marca che io uso è la nevitali gente è una delle secondo me delle migliori marche in assoluto per colore dei capelli sia per quanto riguarda la lucentezza del colore per il colore in se stessa e soprattutto gente per la durata cioè voi non potete capire che il colore rimane brillante per mesi se non fosse per la ricrescita non lo dovreste neanche di fare cioè è un colore che è fantastico il nero blu è bellissimo io faccio il 6 7 5 5 da un rosso viola molto bello e il 7 5 7 non so se si vede penso di sì ok che è un rosso intenso il mio solito colori io abbino questi due colori metto 100 ml 120 ml di rosso e 50 ml di rosso viola la divisione di questo colore è 1 1 e mezzo quindi mettete 100 ml di colore tipo 150 ml di acqua ossigenata naturalmente anche questa nevitali a 20 volumi basta per me perché sono di mio comunque sono chiara ecco questa è la linea di prodotti che uso per i capelli e vi garantisco che è una delle meglio marche che potete trovare in commercio quindi se vi volete fare il colore a capelli se volete usare una tinta che non abbia ammoniaca perché questa non ammoniaca ma che regga tantissimo il colore che sia super coprente che sia buonissima anche come profumazione questa qui assolutamente la nevita di verità sono quasi bionda di mio come potete vedere nelle sopracciglia quindi io non ho bisogno di andare con acqua ossigenata più alta però se voi siete un pochino più scura di me volete schiarire un pochino la base andate su con l'acqua ossigenata a 30 volumi anche se basta la 20 la tenete un po di più ma comunque a 30 volumi basta aumentare la tempistica di quanto la tenete in testa comunque inizio la tinta vi faccio vedere a inizio opera poi a fine opera quando mi sono lavata e capelli sono asciutti mi sa che questo video lo continuo domani perché io non le asciugo col phon non ho voglia se mi ci vuole troppo tempo li lascio asciugare all'aria quindi devo aspettare quelle tre quattro ore che mi asciugano perché lo estremamente lunghi e quindi mi ci vuole del tempo quindi non so se questo video uscirà oggi e domani dopo che i capelli mi sono asciutti e magari mi trucco mi do una truccata e mi faccio vi faccio vedere come sono venuti all'aria aperta fuori questo c'è questo qui è un colore che ha quattro mesi e mezzo se non fosse per la ricrescita sarebbe ancora il top dei top dei colori quindi ci vediamo tra per voi passa un minuto per me passa un'ora e mezzo e mi ci vuole dammi il colore però un po meno perché vi faccio vedere già all'inizio mi concedo come il maiale cioè ragazzi dovete capire che quando mi do il colore sembro un po pazzo di neve rosso cioè divento tutta rossa faccia braccia ovunque ovunque mi coloro di rosso ovunque per fortuna per non dire culo anzi lo dico per culo questa tinta qui sulla pelle non rimane quindi va via quindi mi salvo in pompa mania così perché proprio guardate cioè è assurdo come mi concio per darmi i capelli soprattutto per darmi il cuore soprattutto dietro mi concio male a tra poco il colore è pronto dio mi aiuti ecco che viene il mio salvezzo oh mio dio qui si prosegue o gente qualcuno che voglia di venirmi a dare il colore vi faccio vedere dopo quando ho finito allora il disastro l'ho fatto non vi dico in che connessione ero perché dio voglia ero in connessioni pessime avevo rosso tutto qui tutto addosso tutte le parti comunque il colore l'ho messo ora è questione di mezz'ora poi mi vado a lavare i capelli adesso mentre aspetto tanto qualcosa più qualcosa meno mi do mi faccio che sta mascherina per il viso cannabis sativa pil off speriamo mi faccia troppo male perché essendo di mia bionda ho tutta quella pelurina bionda sul viso sapete quella fine fine bionda che hanno le persone bionde non so se tra i miei contatti c'è qualcuno che bionda ce l'ha e quindi niente speriamo non mi faccia troppo male o mio dio comunque vi faccio vedere dopo il risultato finale allora il colore l'ho fatto ora si vede male perché sono bagnati quindi domani poi vi faccio un mini video che vi metterò nella community per farvi vedere come sono venuti però sono a modino perfetto la maschera per il viso buonissimo allora non tira la pelle la lascia molto morbida e luminosa perché insomma aveva anche luminosa a modino e niente questo è il risultato mi raccomando usate questi prodotti perché davvero sono una garanzia la nevitali è una garanzia ve lo garantisce una parrucchiera quindi viva la nevitali e niente questo video è finito va diverso dal solito non ve l'ho mai fatto vedere che mi non si vedono perché sono bagnati come vi ho detto io l'asciugo così all'aria non l'asciugo col phon e io capelli vedete domani il colore a modo ciao a tutti